Buongiorno amici di Panorama Italy, rieccoci in diretta, c'è Yamanna a Palermo Eccoci qua ragazzi, eccoci qua Un sacco di foto con tutti i fan Vi salutiamo a tutti gli amici che si stanno collegando, ragazzi, saluti da Panorama Italy Salute, manca Ignazio Tamburello, ciao Ignazio Facciamo un po' di inquadratura a tutti gli amici, tutte le amiche le fan peggio a casa Sì, sì, è tipo telecronaca, salutiamo a tutti gli amici a casa Salutiamo anche Carlo Laminetti, ciao Carlo, fan dalla Toscana, dalla Sud America Salutiamo a tutti, ciao Valeria Ce l'ha fatto Ciao Soldano e Rosanna, saluti ragazzi, saluti da Palermo Ciao Anna Maria Picci, siamo ancora live ragazzi su Palermo, Giamman, Hotel delle Palme Ciao Anthony Salutiamo anche Maria Lucrezia Granata Vediamo se riusciamo, vediamo se riusciamo Salutiamo anche Elena Momoc, ciao Ele Vediamo ragazzi, un sacco di foto, un sacco di foto stamattina Ringraziamo per la disponibilità Gianna Salutiamo anche Lina Agostino, ciao Lina, vamos Ciao Giussi, un sacco di foto, vedete ragazzi, abbastanza ragazzi ordinati stamattina Salutiamo anche Maria Rosaria, ciao Maria Rosaria, saluti Sì, sto scendo adesso ragazzi, sto scendo adesso La giornata è abbastanza piovosa su Palermo, però insomma, situazione abbastanza tranquilla Vediamo Carlo, vediamo se riusciamo Aspettiamo il nostro turno Salutiamo anche Jennifer Ferruggia Salutiamo anche l'amica Virgi Vuoi confermare che è il vero Gianno perché c'è chi pensa No ragazzi, come? Non si vede che è il vero Gianno, ragazzi Siamo in diretta su Palermo, ragazzi Sono le ore, sono le ore 14.16, domenica, 27 febbraio Quando arriverà? Quanto resterà? Ragazzi, io credo ancora due o tre giorni Salutiamo anche l'Essandro di Narragone e Menigeraci, saluti Salutiamo a tutti gli amici, vamos Salutiamo anche Elda Ciao Elda, saluti, ciao Chiara Salutiamo anche Chiara Salutiamo Laura Sciattini Ciao Laura, salutiamo il gruppo Gianprinzi Yamano Salutiamo tutti i gruppi che si stanno ricollegando Ciao Dora, ciao Antonella Ciao Letizia Ciao Anto, saluti Salutiamo anche Vania Santos Tutto il Sud America collegato Forse Tutto il Sud America collegato Salutiamo anche a Peppe Cernigliaro Ciao Anna No, aspettiamo qua, ragazzi Vediamo È caduto un cellulare, ragazzi È caduto un cellulare Quanto resterà, ragazzi? Penso altri due o tre giorni E poi dovrebbe ripartire per Roma Salutiamo anche Angela Neri Ciao Angela Salutiamo anche Angela Neri E Tina Garsea Ciao Lina Ciao Anna Salutiamo anche Anna Valentina Vediamo pure Il nostro Mimo si fa la foto Immortaliamo a Mimo, ragazzi Vamos Anche Mimo, ragazzi Anche Mimo Salutiamo anche Claudia Giove Chiara Raimondi Ciao Chiara Salutiamo anche Fabio Maria Ciao Laura Ciao Laura Ciao 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 Ma fattimela da sole Facciamo anche Rita Schiavone e Nunzia Silvestro Possiamo fare una foto, Gian? Ce l'ho per fare un saluto, Gian? Ci facciamo un primo piano, dai Come sapete in diretta No Facciamo anche Salvatore Vitale Mimo Ciao Parrino Ciao 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 Vediamo anche Stefania Giuliano Un sacco di amici e amiche Ci stanno facendo la foto Salutiamo anche No, no, raga Non ci vado incontro Lo sapete Lo sapete Facciamo solamente Qualche primo piano Ci spostiamo da questa parte Mimo, vamos Dai Ragazzi Vi abbiamo dedicato Già Iamani da Palermo E ovviamente Non possiamo fare tutto noi Diciamo Non ci buttiamo addosso Come ben sapete Salutiamo anche Maria Rosaria Morrone Mimo però si è fatto la foto Vero Mimo Vamos Mimo Salutiamo anche Facciamo vedere la foto Mimo, dai Facciamo un video A un po' di amici a casa Allora, dai Aspettiamo Salutiamo anche Carola Minetti Nel frattempo Vi facciamo vedere la foto Si, Mimo l'aveva già fatta No, ragazzi Io non me la sono fatta Però Mimo si è fatta la foto Vamos Allora, ragazzi Dai, è uscito Gian Penso che adesso Stanno uscendo Guida lui oggi Guida lui Mimo Guida Gian Vai, passiamo da questa parte Salutiamo anche Fabio Maria D'Elena Momoc Dalla Romania Saluti Salutiamo anche Lina Agostino Ciao Lina Un sacco di gente Dai, siete riusciti tutti Dai, ragazzi Siete riusciti tutti a fare la foto Salutiamo anche Katia Milano E Pietro Busalacchi Ciao Pietro Vamos Eh, già è passato Vale Già è dentro l'auto Ragazzi Salutiamo anche Simona Cipollina Ciao Simo American Jamie Buon pomeriggio Buon pomeriggio A tutti gli amici che si sono ricollegati Mimo Faccio vedere un secondo Facebook Salutiamo anche Parrino Grazie a Parrini Sempre sotto Anche sotto l'acqua Oggi il tempo non è il massimo A Palermo Però fantastica Insomma Siamo riusciti a fare Una bellissima inquadratura Salutiamo anche Silvia Garofalo Ragazzi vi ricordo di condividere il video Andate a uscire una mano con le condivisioni Buonasera amici Abbasso un po' Abbasso un po' Abbasso un po' Salutiamo anche Saveria Garsea Anna Livigni No, non ti occupa Insomma ragazzi Adesso è dentro Diciamo che non si vede bene Finalmente Salutiamo anche Franco Zaccaria Ciao Franco Salutiamo anche Giulia Soleil E Fabio Refice Ciao Mbare Salutiamo anche Parrino Jeffrey Ciao Parrino Vediamo se ci fossimo Favano inquadratura da vicino No dai basta Mettemi le mani Che vergogna Ecco qua E insomma ragazzi Anche oggi Anche oggi Abbiamo preso Sì Sì Ciao Tizzi Ciao Giulia Saluti È figo pazzesco Da paura Vamos ragazzi Primo piano Grazie Ciao Gianni Buona giornata Ciao Ciao Vamos Saluti anche Massimo Ciao Massimo Vamos 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 Dai ragazzi Qua si fa festa Ragazzi Si fa festa Attraversiamo un secondo Attraversiamo 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 Mimmo ti saluta Maria Lucrezia Ciao Dove saranno domani ragazzi Ancora questo non si può sapere Ragazzi Comunque sono riusciti Quasi tutti a fare Tutti praticamente a fare la foto Sono molto contento Per tutti gli amici E le amiche Della Paggio Qua intanto si urla Si fa festa Salute anche Concetta Bonomo Dove saranno domani Ragazzi ancora non si sa Domani dove saranno Quindi insomma Non sappiamo ancora Dove saranno domani Salute anche Maria Rosi Carlino Ciao Maria Rosi Aspetta Non riesco a prendere Facebook Ragazzi volevo dirvi Ah ok indietro Ok Un secondo ragazzi Che vi Vediamo Un secondo Aspetta Aspettate ragazzi Perché c'è un piccolo Aspetta Dovevo vedere una cosa Un secondo ragazzi Allora Io l'ho aspettato Due giorni di fila Ma niente Eh lo so ragazzi Purtroppo può capitare Allora Mimmo Facciamo rivedere la tua foto Intanto poi facciamo vedere Anche Instagram e Facebook Vamos Ragazzi Allora Mimmo è riuscito Di nuovo a farci la foto Ci ha fatto anche un saluto All'ultimo Salutiamo anche a Chiara Raimondi Salutiamo a nostra carola Minetti Marcella Abro E tutti gli amici Che abbiamo conosciuto Oggi pomeriggio Oggi stamattina Qui sotto l'hotel Salutiamo Quando parte ragazzi Fra due giorni Comunque dai ragazzi Avete visto insomma Abbastanza educati Hanno aspettato tutti il turno Hanno fatto le foto Insomma è stato veramente Ciao cara Alla prossima Insomma obiettivo raggiunto Per molti Molti sono riusciti a fare la foto Salutiamo anche a Mirella Di Rocca e Giussina Oggi c'è Oggi c'è abbastanza freddo Ragazzi Sì c'è abbastanza freddo Quando va via Ragazzi Fine mese No scusate Primi giorni del mese Questa è intanto La nostra pagina Facebook Ragazzi vi raccomando Di lasciarci un segui Questo video Poi lo rivedrete Anche su YouTube Salutiamo anche Fabio Locicero Mary Gerace Patrizia Rosciione Ragazzi lasciateci un like qui Questa è la nostra pagina Facebook Grazie di cuore Ragazzi ci ricolleghiamo ormai stasera Andiamo a casa ragazzi Che oggi è domenica Poi stasera saremo ancora in diretto Da Palermo Salutiamo anche Maria Carbutto Giulia Fabio Reficio Grazie Fabio Salutiamo anche Linda Gianfalla Giacinto Leto Giusevito Maria Carbutto Vieni qua facciamo un saluto Saluti ragazzi da Palermo Salutiamo anche gli amici Che hanno raggiunto Hanno fatto tutti la foto Salutiamo anche Sonia Birriolo Ciao Sonia Chiudiamo da qui ragazzi Grazie all'Hotel delle Palme Grazie a tutti per averci seguito E come sempre ragazzi Alla prossima Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti